Ha lasciato dichiarazioni spontanee, ha detto la sua verità, scusate, ha detto la propria versione dei fatti e poi proseguirà il processo con la mia ringa alla prossima udienza. Senta, ha sostenuto di essere, diciamo, come già in passato più vittima che... In merito delle dichiarazioni non vorrei entrare, perché il processo è ancora in corso e preferisco prima di discutere la mia ringa, grazie. Com'è andata?